Il termine EID sta per International Academy of Innovative Dentistry, quindi abbiamo tre i fondamentalmente, la International che definisce appunto il carattere mondiale della nostra Accademia, il carattere internazionale della nostra Accademia. Noi abbiamo 40 soci fondatori, questi soci fondatori provengono da 13 paesi diversi, 5 continenti. Questo significa che abbiamo la possibilità noi stessi di migliorarci perché ci interfacciamo con realtà a volte simili, a volte leggermente diverse, a volte completamente diverse. Quindi il confronto tra culture diverse nell'affrontare la stessa problematica, la problematica odontoiatrica, ci permette di conoscere dei risvolti che a volte magari nella nostra cultura possono essere sottovalutati o poco rappresentati. Innovative. Innovative è qualcosa che prende in considerazione sia la struttura della nostra Accademia, che è un'Accademia assolutamente apolitica, meritocratica, dove chi vuole fare fa e abbiamo bisogno appunto di persone con grande volontà di portare avanti un discorso nuovo, perché siamo nuovi in questo panorama mondiale o nazionale, visto che ora noi parliamo dall'Italia e siamo italiani, panorama appunto nazionale e internazionale che è pieno di società e accademie scientifiche. Quindi innovativi significa intraprendere dei percorsi di divulgazione dei temi che affronteremo e di insegnamento di queste problematiche in maniera diversa. Magari ne parliamo più avanti quando parliamo di come strutturiamo i nostri corsi, di come strutturiamo i nostri seminari. Poi abbiamo il termine inclusive. Inclusive significa includiamo tutti. Non siamo un'Accademia esclusiva, non siamo un'Accademia per specialisti. La nostra è un'Accademia che richiama tutti i libri professionisti, tutti i professionisti del settore lontogliatrico e non solo, anche quelli che si interessino dell'estetica facciale nel rispetto delle regole. Perché crediamo che oggi la libera professione sia più che mai una libera professione dove vengono intraprese tutte le discipline. Per cui le tecnologie innovative che andremo a discutere sono delle tecnologie innovative che funzionano e vanno adoperate da professionisti di tante discipline. Quindi siamo assolutamente inclusivi e siamo aperti in modo trasversale a tutti i professionisti del settore lontogliatrico.